Perché Luca racconta il battesimo di Gesù in modo differente dagli altri evangelisti? E perché queste differenze, soprattutto, sono importanti, sono da sottolineare? Nessuno ha dato più importanza a Giovanni il Battista e alla nascita di Giovanni il Battista nell'Evangelista Luca. Ci ha dedicato un'annunciazione intera, l'annunciazione a Zaccaria del Tempio. Giovanni il Battista è fondamentale per Luca, però viene trattato in maniera molto diversa rispetto agli altri evangelisti. I sinottici, soprattutto, ci raccontano il modo in cui Giovanni il Battista muore. Ci raccontano i dubbi di Giovanni il Battista. Invece, nel Vangelo di Luca, questa che abbiamo appena ascoltato, è l'ultima pagina in cui compare. Che cosa fa di speciale Luca? Luca ci racconta di Giovanni il Battista, ma Giovanni il Battista si ferma qui. Non se ne parlerà mai più. E' anche importante sottolineare, mettere in evidenza, che Giovanni il Battista, secondo Luca, viene arrestato prima che Gesù sia battezzato. Dopo che Gesù ricevuto il battesimo, e probabilmente non da Giovanni il Battista, e questo non ci deve meravigliare, perché il fatto che molte folle andavano a ascoltare Giovanni il Battista e poi riceverono il battesimo, non significa che Giovanni il Battista in persona battezzasse tutta quella folla lì. E' probabile che lo facessero gli stessi discepoli di Giovanni il Battista, che quindi insieme a lui amministrassero questo battesimo. Si può anche immaginare che non sempre ci fosse bisogno, diciamo, del ministro per fare questo battesimo, perché gli ebrei erano già abituati al Tempio a battezzarsi da soli, perché ricordate che il battesimo di Giovanni il Battista è un atto rituale molto simile a quelli che già si facevano nel Tempio. Nel Tempio c'erano delle vasche in cui la gente andava a farsi il bagno integralmente o parzialmente, a secondo, insomma, delle situazioni, per poi entrare a pregare nel Tempio e poi entrare a fare il sacrificio. Qualcosa di simile che si trova ancora in alcuni santuari persino cristiani. Pensate al santuario di Lourdes, per esempio, dove ci sono delle vasche appose dove uno vuole può andare a fare un bagno di purificazione rituale. E questo è esattamente quello che gli ebrei ormette facevano. Poteva essere appunto il battezzando stesso, che si univa alla folla e appunto si immergeva nelle acque del Giordano. L'attenzione di Luca non sta in Giovanni il Battista, in questa scena. Ricordate che Luca è anche nella tradizione della Chiesa un pittore, quindi dovete immaginare la scena. Questo è un esercizio di meditazione che vi consiglio di fare. Cercate di immaginarvi la scena, ma come l'Evangelista ve la descrive, cercando di restare le informazioni che quell'Evangelista vi dà. Mentre tutto il popolo veniva battezzato, dopo che ci è stato raccontato che Giovanni era stato arrestato, quindi Giovanni in questo momento è sparito dalla scena, ma l'ultima cosa che ha detto è che egli vi battezzerà in Spirito Santo e Fuoco. Sottolineatevelo questa cosa, Spirito Santo e Fuoco. Questo battesimo che Giovanni il Battista ha in mente, che Luca ha in mente, mentre mette queste parole in bocca a Giovanni il Battista, Indovinate che cos'è. Ricordate che è Luca che sta scrivendo, non Marco o Matteo, è Luca. E Luca è l'unico degli evangelisti che ha in mente un seguito al Vangelo. Il Vangelo 2, d'accordo? Qual è il Vangelo 2? Gli Atti degli Apostoli. E qual è l'evento che innesca tutto il movimento della Chiesa, la vita della Chiesa, nella seconda parte dell'opera di Luca? È la Pentecoste. E questo non è un caso. Ci ha detto Luca, tutto il popolo attendeva, tutti si domandavano se il Messia non fosse Giovanni. Invece no. Giovanni dice il Messia non sono io e indica che verrà un altro che battezzerà in Spirito Santo e Fuoco. Dopodiché Giovanni esce di scena. Non lo vedrete più nel film di Luca, Giovanni non lo vedrete più, non ne sentirete più parlare, perché qui ha compiuto la sua missione. Appena ha detto che vi battezzerà in Spirito Santo e Fuoco, Giovanni ha compiuto la sua missione. Sappiamo che poi sparisce perché viene appunto preso da Erode e portato in prigione. A Luca non interessa la morte del Battista. A Luca interessa dire io vi battezzo con l'acqua ma arriverà qualcuno che vi battezzerà. In Spirito Santo e Fuoco, quindi lui è uno di passaggio e ha soltanto il dovere di indicare. Infatti indica e poi sparisce. A questo punto tutta l'attenzione di Luca, bene, il primo piano, la cinepresa di Luca va su Gesù. E mentre tutto il popolo viene battezzato, quindi immaginate questa folla che si immerge nell'acqua e si immergono ancora di più nell'acqua perché probabilmente l'arresto di Giovanni il Battista lo ha reso ancora più un mito di fronte alla folla. Quindi c'è dietro Gesù, dietro le spalle di Gesù, sullo sfondo, c'è tutto un popolo in attesa, c'è tutto un fermento. Ma in tutto questo fermento, in tutto questo movimento, Gesù è in silenzio. E che fa? Prega. Bene, Gesù prega. Il Gesù che prega è una icona, un'immagine che Luca sottolinea molte volte. E mentre prega, il cielo si aprì e discese su di lui lo Spirito Santo. Luca è l'unico che chiama lo Spirito di Gesù o lo Spirito di Dio lo Spirito Santo. E che cosa aveva fatto poco prima Giovanni il Battista? L'aveva chiamato allo stesso modo, lo Spirito Santo. Che cosa aveva detto l'angelo a Maria? Lo Spirito Santo scenderà su di te. E chi aveva acceso le parole in Elisabetta quando vede Maria? Lo Spirito Santo. E chi aveva acceso le parole di Maria in risposta al saluto di Elisabetta? In risposta alla benedizione di Elisabetta? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il protagonista vero del Vangelo di Luca. Muove sempre tutto perché sarà il protagonista anche nella seconda parte del suo racconto. Cioè il racconto appunto della Chiesa. Ricordate che se volete capire un autore dovete avere presente il termine del suo racconto. dove lui vuole andare a parare e Luca quando racconta il suo Vangelo non ha presente soltanto la morte e la resurrezione di Gesù, ma anche presente il seguito. Ha presente la morte, la resurrezione di Gesù, l'inizio della vita della Chiesa, la Pentecoste, l'annuncio della Chiesa, la testimonianza della Chiesa, fine ai confini della terra, fino a Roma. Ma andate a vedere, gli atti dei apostoli si concludono proprio a Roma e non è un caso. Bene, detto questo, Gesù in un angolo prega, già battezzato, già battezzato. Quindi siamo dopo l'azione. Quindi non c'è neanche quel dialogo, sei degno o non sei degno. Ricordate che, l'abbiamo già detto altre volte, il battesimo di Giovanni il Battista, sì, era un battesimo di penitenza, ma era soprattutto un battesimo di preparazione alla novità. D'accordo? Quindi non c'è bisogno di pensare, si sottolinea spesso, l'umiltà di Gesù che va, si battezza perché è umile, come gli altri, tutti i peccatori, si fa peccatore tra i peccatori. No. Sì, se volete c'è anche questo, però in realtà il fatto che Gesù vada a farsi battezzare vuol dire che comincia qualcosa di nuovo. È un modo per dire che comincia la sua missione. Gesù si va a farsi battezzare con lo stesso spirito con cui un giudeo entra nel tempio e si faceva le abruzioni rituali. Perché deve disporsi a un cambiamento, deve disporsi a una novità, come uomo, come essere umano. Quindi questa novità, perché è peccatore, vuol dire che i peccati te li devi lasciare alle spalle, che devi cambiare, ti devi convertire, no? Ma ti puoi convertire anche alla tua missione. Perché anche Gesù, in un certo senso, si converte nel senso che la direzione della sua vita cambia e va dritta verso Gerusalemme, verso la Pasqua. Quindi anche Gesù si converte, non dal peccato, ma verso la sua missione, dalla vita ordinaria a una vita straordinaria. Quindi il battesimo ci sta lo stesso. E infatti non c'è un dialogo tra Gesù e Giovanni il Battista nel Vangelo di Luca. Discese su Gesù lo Spirito Santo, quindi Luca sottolinea sempre che si tratta dello Spirito Santo, quindi lo Spirito, non soltanto lo Spirito di Dio, ma lo Spirito che santifica, quindi lo Spirito che trasforma, in forma corporea come di colomba. Cioè, su Gesù questa discesa dello Spirito Santo è diversa che in qualunque altro essere mai raccontato della Bibbia, perché questa idea richiama una metafora, cioè quella della colomba che scende nel suo nido. Cioè lo Spirito scende su Gesù per restarci. Questo è il motivo per cui si parla di colomba. La colomba, cioè lo Spirito in forma di colomba, vuol dire che Gesù viene posseduto dallo Spirito, ma questo Spirito va in Gesù come nel proprio suo tempio. Questo rimanere dello Spirito in Gesù è sottolineato e confermato dalla voce del cielo. Tu sei mio figlio l'amato, in te mi sono compiaciuto. Luca mette in evidenza queste parole, ma nessuno le ascolta. Gesù è l'unico che sperimenta nel racconto di Luca questo evento. È tutto su Gesù. Vedete, mentre altri evangelisti ci tengono che ci sia una rivelazione pubblica di questo battesimo, qui invece è tutto su Gesù. Ma questo essere tutto su Gesù è, come avete capito, un'anticipazione della Pentecoste. Mentre Luca ci racconta questo evento, ci prepara al momento in cui lo Spirito Santo, mentre tutti i discepoli pregano, con Maria che presiede questa preghiera, ricordate bene come viene descritta la scena da Luca, questo momento avviene dopo il battesimo della morte e risurrezione. D'accordo? Quindi i discepoli hanno ricevuto il battesimo della morte, quindi è cominciata per loro un'era nuova, la loro vita è stata totalmente stravolta da questo evento, ma ora, ora, lo Spirito Santo scende su di loro. E quello scendere dello Spirito non è sotto forma di colomba, lì sì avviene una teofania pubblica, lì sì avviene il tuono, il dono delle lingue, perché in quel momento avviene l'epifania al mondo, capite? Quindi Luca, diciamo, fra tutti gli evangelisti, in realtà è quello che più sottolinea il legame tra Gesù e la sua Chiesa, tra Gesù e i suoi discepoli, tra Gesù e noi. Quello Spirito ricevuto di Gesù è lo stesso Spirito che ricevono i credenti attraverso il mistero sacramentale, no? Di quello che noi chiamiamo battesimo e cresima, e quella che negli atti degli apostoli è appunto il battesimo, accompagnato poi dall'effusione dello Spirito Santo. Allora, tutto questo discorso per dire come il mistero dell'epifania è proprio epifania in quanto è manifestazione dell'identità di Gesù che però passa attraverso di noi. Con l'epifania noi diventiamo i responsabili del rinnovamento del mistero del Natale del mondo, i responsabili del messaggio del Vangelo. Questa è la cosa che forse più di tutti gli altri evangelisti, Luca, sottolinea di più. Sottolinea di più.